buongiorno bambini oggi volevo leggere insieme a voi il libro sono io il più forte prepariamoci un giorno un lupo che aveva mangiato a crepapelle e quindi non aveva più fame decide di fare una passeggiata nel bosco è l'ideale per digerire bene dice tra sessi e quasi quasi ne approfitto per sapere cosa pensano di me gli abitanti del bosco incontra un grazioso coniglietto selvatico buongiorno belle orecchie dimmi un po chi è il più forte domanda il lupo il più forte sei tu padron lupo sicuramente e senza alcun dubbio è certissimo risponde il coniglio il lupo tutto fiero prosegue la sua passeggiata nel bosco come sto bene nella mia pelle dice tra sessi respirando il profumo della querce e dei funghi incontra poi cappuccetto rosso ma lo sai che questo colore ti dona sei proprio un delizioso bucconcino da sgranocchiare dimmi mocciosa chi è il più forte le chiede il lupo sei tu sei tu sei tu questo è certo grande lupo è impossibile sbagliarsi sei tu il più forte risponde la bambina è proprio quello che pensavo sono io il più forte mi piace che me lo dicano e me lo ripetano adoro i complimenti non mi stancano mai esulta il lupo incontra poi i tre porcellini cosa vedo tre porcellini lontani dalla loro casa è imprudente da parte vostra ditemi cicciottelli chi è il più forte chiede il più forte il più coraggioso il più bello sei sicuramente tu grande lupo cattivo rispondono insieme i tre porcellini è ovvio sono io il più feroce il più crudele sono io il grande lupo cattivo hanno tutti una gran paura di me sono il re esclama il lupo trionfante un po' più là incontra i sette nani ehi ridicoli ometti sapete chi è il più forte? chiede il lupo il più forte sei tu signor lupo rispondono i nani in coro ah è chiaro è deciso è indiscutibile tutti lo sanno sono il terrore dei boschi sono io il più cattivo fra tutti cattivi e quindi proclama il lupo incontra infine una specie di piccolo rospo ciao orribile cosa suppongo che tu sappia chi è il più forte dice il lupo si certamente è la mia mamma risponde quella specie di rospo cosa? povera bestia viscida miserabile carciofo testa dura cerchi rogni? non ho sentito bene chi è il più forte prego ma te l'ho già detto la mia mamma è la più forte e anche la più buona tranne con chi è cattivo con me? risponde il piccolo drago e tu chi sei? io io sono il piccolo lupo buono risponde il lupo indietreggiando prudentemente e ricordiamoci sempre che i libri sono ali che aiutano a volare i libri sono vele che fanno navigare i libri sono inviti a straordinari viaggi con mille personaggi l'incontro sempre c'è